Ora faremo la ginocchiata base, una delle ginocchiate base diciamo BOOM! Bisogna sempre tenere sollevati i piedi, GINOCCHIO e tornare indietro, una mano o entrambi le mani vanno ad aggrappare la testa dell'avversario dietro il collo, dietro la nuca dietro la nuca c'è più forza e poi a impattare col ginocchio, infatti si chiama TEN KAO, significherebbe TEN come pungere, come pugnalata, è il ginocchio, tornare indietro, BOOM! 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 Adesso variante! Cambiare. Cambio gamba. Questo con cambio gamba, quindi anzi è impatti con l'altra gamba. La stessa cosa, la stessa cosa, sempre tenere l'avampiede alzato. Ok. Quindi il ginocchio e la gamba deve essere piegata in questa posizione. Il ginocchio e la gamba. Questo è la ginocchietta saltata. si può prendere si può agganciare la testa o meno se agganci la testa sicuramente avrai ok 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 va l'emba pati aga